Tra eros e ironia, estetiche glamour e poesia, le pin-up di un artista francese arrivano nella capitale, esposte alla Galleria Wunderkammern fino al 16 marzo. Artista e poetessa di strada, femminista, un po' provocatrice, con umorismo, sensibilità e intuizione, attraverso i suoi stencil e slogan veste i muri di Parigi, rivelandoci la sua filosofia di vita. Incarna la libertà, l'intelligenza e l'eleganza, sa parlare direttamente al cuore e con coraggio, risvegliando le nostre coscienze. Con questa mostra, organizzata da Giuseppe Ottavianelli, gli stencil che popolano le strade di Parigi prenderanno nuova vita su tela, piastre in acciaio, superfici in legno, plastiche e collage, per raccontarci la vita di uomini e donne a noi contemporanei, visti con gli occhi e l'anima di una poetessa metropolitana qual è Mystique. Andiamo insieme alla scoperta di questo suo mondo pieno di doppi sensi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La città diventa eccitante, il corpo appartiene alla città, l'eros arruola lo sguardo, la battaglia urbana diventa sexy, il verbo da coniugare è semplice, Mysticare Roma. Michela Cossidente per HTO, Galleria d'Arte, Wunderkammern, Roma. Grazie a tutti.